A Daci Catena stupore, incredulità e tanti interrogativi all'indomani dell'operazione della DIA di Catania che ha arrestato tre persone tra cui il sindaco. Cresce la discarica assorta nello slargo di Via delle Terme da Cireale, neanche l'apertura del Parco delle Terme ha portato alla sua bonifica. Calcio dopo le dimissioni del DG Simona Marlette, la Cireale saluta anche Capitan Millesi, risoluzione contrattuale, domani intanto c'è la Coppa. Ben trovati dalla redazione di Reporter, questi i titoli in primo piano per l'edizione odierna del TG. Tra gli altri argomenti parleremo ancora di cronaca furti tra Cireale e Tre Castagni, denunciato un 33enne per il furto alla cerieria europea ad A Cireale, a Tre Castagni invece furto di 40 kg di castagna. Approvato poi dalla giunta comunale di A Cireale il regolamento per il compostaggio privato, necessario avere la disponibilità di un minimo di area a verde e poi sempre ad A Cireale è stato bandito il concorso per i carri allegorico grotteschi. A comunicarlo il sindaco Barbagallo e il presidente della fondazione Antonio Belcuore, questo ovviamente in vista dell'edizione 2017 del Carnevale. Ma come hai sentito dai titoli ad A Cicatena c'è tanto stupore, tanta incredibilità e numerosi interrogativi all'indomani dell'arresto eseguito dalla DIA di Catania di tre persone, tra cui il primo cittadino Ascenzio Maesano. Sentiamo. Si dimetterà il sindaco Ascenzio Maesano intercettato mentre intasca la mazzetta e arrestato con l'accusa di corruzione o sarà la prefettura a sospenderlo dalle funzioni di sindaco? Interrogativi dominanti ad A Cicatena insieme a tanto stupore e incredulità. Una cittadina tornata, suo malgrado, alla ribalta delle cronache dopo la recente Gettonopoli che ha portato la procura a richiedere il rinvio a giudizio per 11 consiglieri comunali accusati di falso in atto pubblico e truffa, per i quali l'udienza preliminare è stata fissata il prossimo 27 ottobre davanti al GUP Giovanni Cariolo. Stupore e incredulità, come detto, per gli arresti eccellenti che hanno interessato, oltre al sindaco Ascenzio Maesano, anche il consigliere comunale Orazio Barbagallo, già dirigente dell'area economico-finanziaria del Comune, e l'imprenditore Giovanni Cerani. I cittadini, piacevolmente sorpresi in questi anni dall'enorme mole di lavoro svolto dal sindaco e dalla sua giunta, un sindaco è stato detto sempre presente, sempre in piazza, sempre disponibile, si sentono adesso confusi, nessuno ha voglia di parlare, ma le intercettazioni ambientali della DIA di Catania, che ha colto in fragranza Maesano e Barbagallo, mentre si spartiscono una mazzetta, non lasciano dubbi. E' molto probabile che l'amministrazione comunale, hanno detto ieri in conferenza stampa ai magistrati, attribuisse contratti di appalto col sistema della corruzione, le indagini continuano. Con questa operazione, ha aggiunto il procuratore capo Carmelo Zuccaro, vogliamo interrompere queste alleanze, dando così una risposta agli imprenditori sani. E' una delle nostre preoccupazioni più serie. Non possiamo permettere che l'imprenditoria sana di Catania e ce n'è tanta venga spazzata via da quegli imprenditori che pensano di poter arrivare attraverso scorciatoie, accordi collusivi o accordi, peggio ancora, mafiosi, a contattare con la pubblica amministrazione. E' un danno enorme per la collettività, perché gli appalti in quel modo vengono gestiti nella maniera peggiore possibile, ma è un danno anche per l'imprenditoria sana. Questa mattina intanto il vice sindaco Giovanni Grasso ha presieduto una riunione di giunta comunale aperta alla partecipazione del segretario comunale per capire il da farsi. Aspettando notizie dalla prefettura, ma anche dal legale di Maesano, che come detto potrebbe decidere di dimettersi, l'attività amministrativa va avanti. Del resto sono gli ultimi sette mesi di consigliatura. La prossima primavera, comunque vada, a Cicatena tornerà alle urne. Parliamo ancora di Cronaca, ha denunciato il malvivente che sabato scorso aveva rubato candele e ceri all'interno della cereria europea di Acireale in via Cefalù, a Trecastagni invece ha arrestato un 46enne di Catania per il furto di ben 40 chili di castagni. Sentiamo. Un inizio settimana all'insegna di furti tra Acireale e Trecastagni che per fortuna non sono andati a buon fine. Sabato notte nella cereria europea da Cireale in via Cefalù, un 33enne di Aci Catena era entrato nei locali rubando candele e ceri votivi per un valore di circa 8.000 euro. Dopo la denuncia del titolare della ditta, i militari della stazione Acese hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione del giovane dove è stata ritrovata l'intera gamma di candele e ceri rubati. Il malvivente è stato denunciato per furto aggravato, la refurtiva invece è stata restituita al legittimo proprietario. Dai furti di candele alle castagne. A Trecastagni infatti i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un catanese di 46 anni per furto aggravato. Il ladro era entrato nel terreno di un privato per rubare 40 chili di castagne. Peccato però che a sconvolgere i piani del malvivente ci ha pensato una pattuglia dei militari che passavano per la via Dottor Zappalà dove si trovava il terreno. Il ladro è stato beccato proprio mentre caricava il bottino in macchina. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre l'arrestato attenderà la direttissima in camera di sicurezza. Cambiamo argomento. La giunta comunale di Acireale ha approvato il regolamento comunale per l'attuazione del compostaggio previsti sconti per coloro che aderiranno. Sentiamo. La giunta comunale di Acireale ha approvato il regolamento per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità, un documento a cui hanno preso attivamente parte pure la prima e terza commissione consigliare. Cosa è il compostaggio domestico? Si tratta di una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotte a casa, il tutto di origine prevalentemente alimentare. Con la pratica del compostaggio domestico e di comunità si ha una significativa riduzione del peso e volume dei rifiuti che devono essere trasportati e smaltiti. Sulla base di ciò e inoltre del regolamento attuativo che dovrà ora essere esitato dal consiglio comunale, verrà quindi riconosciuto uno sconto ai cittadini che intendono praticare il compostaggio. L'iniziativa è rivolta esclusivamente al riutilizzo del prodotto compost come fertilizzante nelle proprie aree a verde e nelle attività di giardinaggio in generale. Al fine di dare massima diffusione al compostaggio domestico e di comunità, il Comune promuoverà progetti di informazione e attivazione mettendo a disposizione delle utenze che ne faranno richiesta le compostiere incomodato, d'uso gratuito. La superficie minima di terreno disponibile da parte del richiedente deve essere di almeno 40 metri quadrati. Per coloro che non avessero la disponibilità di un'area per l'effettuazione dell'attività di compostaggio di comunità, il Comune si riserva la facoltà di mettere a disposizione anche i propri terreni comunali attraverso la stipula di apposite convenzioni. Parliamo adesso di un biglietto da visita poco elegante per uno degli ingressi di Acireale. Cresce sempre più, infatti la discarica sorta in uno slargo di via delle terne. Cresce giorno dopo giorno la discarica formatasi in via delle terne, nello slargo adibito a parcheggio che si trova ridosso sia del sovrapasso ferroviario che all'ingresso del parco delle terne. Un biglietto da visita poco edificante per un'arteria che costituisce la principale via di accesso alla città da sud. Una situazione che si trascina ormai da una ventina di giorni ad eliminare il vasto campionario di materiale e rifiuti vari presenti non è servito neanche il miracolo della riapertura con una grande festa del Parco delle Terme. E non è servito neppure finora il cambio di testimone per il servizio di igiene ambientale fra la Senesi e la Tecra. La poco edificante cartolina di Acireale è rimasta ben radicata al ridosso del muro di cinta della ferrovia, divenendo così parte integrante dei cassonetti ivi posizionati. A fronte della Tecra, che ancora non ha bonificato il sito, occorre però aggiungere il ruolo fondamentale svolto da quei cittadini incivili che si servono di quest'area per abbandonarvi di tutto, da suppellettile a materassi, da materiale di risulta ad elettrodomestici. Spazio alle segnalazioni dei telespettatori adesso. Nuove problematiche interessano infatti Acireale, dalla carenza idrica al dissesto del manto stradale. Numerose segnalazioni arrivano in questi giorni dal quartiere di San Cosmo. Sono diversi infatti i residenti del quartiere che lamentano l'assenza di acqua da diversi giorni, soprattutto nelle abitazioni in via degli olivi. In molti si chiedono la causa di questo disagio in attesa di un ritorno alla normalità. Problemi giungono anche dalla parte opposta di Acireale. Attenti aspettatori del nostro Tg ci segnalano infatti numerose e pericolose buche in via dell'agrumicoltura, la strada che collega Piazza Agostino Pennisi con via San Gerolamo. Una strada di recente costruzione che collega inoltre la vecchia stazione ferroviaria con la nuova ed è oggi quasi impercorribile, causa appunto il dissesto del manto stradale. Ci spostiamo adesso ad Acci Sant'Antonio dove si riunirà questa sera alle 19.30 il civico consesso, una riunione attesa che da mesi fa discutere la cittadinanza. Infatti, tra i vari punti all'ordine del giorno, quello che spicca maggiormente è l'udienza pubblica di Salvatore Contarino. Ricorderemo che il segretario della sezione sant'antonese del movimento sociale Fiammatricolore nell'ultimo periodo aveva presentato reiterate richieste di audizione pubblica puntualmente respinte in quanto mancanti dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Stasera invece gli sarà concesso il diritto di parola. Ciò di cui parlerà è stato già annunciato. Con tanto di regolamento comunale alle mani richiederà al Consiglio riunito la decadenza del suo presidente Antonio Scuderi che, non avendo presenziato a tre sedute consigliari consecutive senza giustificati motivi, avrebbe perso il diritto di sedere al Banco degli Amministratori della Cosa Pubblica di Acci Sant'Antonio. richiesta a dire di Contarino contemplata dall'articolo 20 del regolamento citato che stasera verrà sottoposta all'attenzione di tutti. All'ordine del giorno figurano inoltre le interrogazioni dei consiglieri al primo cittadino Santo Caruso e alla sua giunta e l'approvazione dei due regolamenti previsti, uno relativo ai controlli interni e l'altro relativo all'istituzione di un garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È tempo di fermarsi adesso, breve pausa di qualche minuto tra poco per la seconda parte di Reporter. Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, per info 095 604883. Trofeo nazionale Tietzi, pattinaggio freestyle 2016, dal 14 al 16 ottobre al pala arcidiatono Cus Catania. Organizzazione a cura del comitato regionale FIP Sicilia. Unicare. 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 Convenienza e garanzia. Signor Carcione è stato un piacere riconoscerla. Unicare. 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 Unicare di guidare. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettori e soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti e da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima fidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in Legno è il preventivo senza impegno. Presso il parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Teatro Stabile Dieci Reale, una nuova stagione di prosa in musica. Tanti straordinari artisti per emozioni indimenticabili. Sister Act con Delia Martin, Carlo Bucci Rosso, Ugo Pagliai, Enrico Guarneri, Pippo Pattavina, Gabriele Garco, Giovanna Criscuolo, Pino Strabbioli, Rosalia Porcaro, Edoardo Guarnera. Abbonati anche tu alle emozioni. Torniamo in diretta per la seconda parte di Reporter. Si continua a lavorare ad Acireale in vista dell'edizione 2017 del più bel carnevale di Sicilia. Bandito oggi il concorso per i carri allegorico grotteschi. Sentiamo. Pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Acireale il regolamento dei concorsi e il bando per la partecipazione alle sfilate dei carri allegorico grotteschi del più bel carnevale di Sicilia 2017. Novità di quest'anno la riapertura della categoria B. Con la pubblicazione del bando, annuncia il presidente della Fondazione del Carnevale, Antonio Belcuore, parte ufficialmente l'edizione 2017 del Carnevale di Acireale. La Fondazione è costantemente a lavoro per l'organizzazione. La prossima settimana i maestri artigiani potranno tornare alla cittadella del Carnevale e il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio di previsione, atto importantissimo che ci consentirà di programmare le attività nei tempi dovuti. Ogni associazione potrà partecipare al concorso con una sola opera. I carri in carta pesta saranno in totale otto suddivisi in categoria A e B. Entro lunedì 17 ottobre dovranno pervenire nei locali della Fondazione in via Lazzaretto tutte le domande corredate dalla documentazione dei progetti. Si è svolta stamane nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre la conferenza stampa di presentazione dell'evento Smart Kids 2016, un weekend di incontri e conferenze per rispondere alle esigenze dei genitori di capire quale sia per i propri figli la migliore offerta formativa e poter scegliere consapevolmente e cercare di prepararli per un futuro con attività che oggi non esistono e lavori che non hanno ancora un nome. Iniziativa importante, dichiarato il sindaco di Giarre, Angelo Danna, che cerca di far comprendere ai più piccoli come sta cambiando il mondo dell'innovazione e metterli in condizione di capire quali e come sono le tecnologie al servizio della cultura e della formazione. È illustrato il programma degli incontri e conferenze che si terranno i prossimi 21 e 22 ottobre presso la Sala Messina di via Calderai, ex pescheria. Siamo allo sport, parliamo di aciriale calcio. È un aciriale che cambia già pelle, abbiamo titolato. Dopo le dimissioni del direttore generale Simona Marletta, infatti saluta anche Capitana Millesi, risoluzione consensuale del contratto per lui. Intanto domani c'è la Coppa. Sentiamo. Neanche il tempo di riposarsi, che si torna subito in campo domani contro la Pedara Sampio in Coppa, neanche il tempo di salutare il direttore generale Simona Marletta, che c'è un altro addio, quello del centrocampista e capitano Francesco Millesi. È un aciriale che perde pezzi, insomma, anche se in questo caso la risoluzione del contratto è consensuale, dunque voluta da entrambe le parti. A pesare anche in questo caso, come in quello del direttore Marletta, una divergenza di vedute e comportamenti che evidentemente non sono piaciuti al presidente Nicola D'Amico, probabilmente poco soddisfatto anche delle prestazioni al di sotto delle sue possibilità dell'ex Catania. Ma a pesare, sotto sotto, potrebbe anche essere lo scandalo calcio scommesse, nel quale è rimasto coinvolto lo scorso giugno Millesi, insieme ad altri giocatori ed ex giocatori, per due presunte partite truccate dell'Avellino in Serie B nella stagione 2013-2014. Millesi, infatti, che ha evitato gli arresti domiciliari per un cavillo giuridico e che risulta accusato di concorso esterno in associazione mafiosa perché avrebbe favorito le scommesse del clan napoletano dei Vanellagrassi, potrebbe incappare nel giro di qualche settimana in una lunga e pesante squalifica che, se confermata, potrebbe scrivere un punto alla sua carriera da calciatore. Salutato Millesi, però, la Cireale rimane a corto di centrocampisti puri. A parte Arena, infatti, i vari Cocimano, Floridi e Fuscello sembrano adattati in quel ruolo, anche se Pijuca, nella seconda parte di gara col Via Grande a Palazzola Creide, ha dimostrato di poter fare anche il regista. Ma oltre a Millesi, domani, nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia d'Eccellenza con la Pedara Sampio, mister Anastasi deve fare i conti anche con la squalifica di Parisi, che dovrebbe essere rimpiazzato dal rientrante Zappalà e con l'assenza di Santino Biondo, infortunatosi nel primo tempo di Palazzolo, è out per almeno una settimana, dunque anche contro il Milazzo domenica prossima. La Pedara Sampio di mister Pidatella, invece, dovrà fare a meno degli squalificati Baglione e dell'ex Privitera. Si riparte domani dall'1-1 della gara d'andata. Un pareggio a reti inviolate, dunque, sorriderebbe alla Cireale in virtù del gol fuori casa, mentre in caso di 1-1 si andrebbe dritti ai calci di rigore. Sischio d'inizio fissato in serata per le 19 al Tuparello, la Coppa Italia veste lo smoking, salutare anche quella sarebbe un vero peccato. Parliamo ancora di sport, ma cambiamo disciplina. Ha presentato ieri il trofeo nazionale Tiezzi di pattinaggio freestyle, che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre presso il Palar Cidiacono di Catania. Sentiamo. Sport e adrenalina a Catania, il 14, 15 e 16 ottobre, per il trofeo nazionale Tiezzi di pattinaggio freestyle. L'evento si svolgerà presso il Palar Cidiacono in Viale Andrea Doria, di proprietà del Cus Catania. Ente patrocinante il trofeo, grazie al suo presidente Luca Di Mauro. È la prima volta nella storia del rotellismo che il trofeo viene assegnato alla Sicilia, grazie anche all'impegno del Comitato regionale FIP Sicilia e del suo presidente Massimiliano Trovato, eletto nel 2014. Stanno credendo in noi, stanno credendo nel pattinaggio, noi siamo in crescita abbastanza forte. Nel frattempo che l'assessore è stato qui, abbiamo approfittato anche, stiamo approfittando di discutere di alcune situazioni per il futuro, perché lo sport e turismo, signori Nutri, non ce lo nascondiamo. Noi abbiamo riempito un hotel per intero, per tre giorni, quindi significa che stiamo portando turismo, stiamo portando soldi, sta girando economia. Quindi stiamo parlando con l'assessore anche di questo, ma stiamo parlando soprattutto delle infrastrutture, perché non dimentichiamo che l'Aciale è il primo imbiando, in graduatoria regionale, e quindi abbiamo chiesto quando uscirà questo benedetto decreto, che aspettiamo ormai da nove anni, non per colpa sua o per colpa delle precedenti amministrazioni regionali, ma anche quella attuale e non c'era lui. Quindi stiamo cercando di capire, essendo che la federazione ha due strutture finanziate per 2 milioni e mezzo di euro, sia a Ciliale che a Trapani, di capire quanto tempo ancora ci vuole per far uscire il decreto e far partire i lavori. Un onore per la nostra Sicilia, ospitare il più importante trofeo d'Italia per le categorie giovanissime e sordienti di pattinaggio freestyle. Le specialità saranno speed slalom, roller cross, style slalom, battle e slide, le cui attuazioni saranno facilitate dalla pavimentazione in cemento al quarzo e asfalto. Collaborazione e sinergia c'è stata con FIP Calabria, oltre al patrocinio della regione siciliana assessorato allo sport e turismo, presieduto dall'onorevole Anthony Barbagallo e dal contributo dei vari sponsor che hanno già aderito all'evento. Gli eventi legati al mondo dei giovani, dell'attività giovanile, sono quelli che misurano l'impegno della parte pubblica in modo straordinario. Quindi siamo contentissimi e felicissimi che si organizzano questo tipo di manifestazioni e ci faremo trovare pronti accompagnando questo tipo di eventi. Un grande appuntamento che vedrà la partecipazione di oltre 100 bambini provenienti da tutta Italia, con a seguito allenatori, dirigenti e genitori che per tre giorni alloggeranno a Catania. La cerimonia di apertura dell'evento avrà luogo il 14 ottobre alle 19.30 e poi per i due giorni successivi si svolgeranno riunioni, gare e training come da programma. Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani. Cielo sereno e temperature stazionarie, comprese tra 19 e 26 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordo che è possibile farlo anche alla nostra pagina di Facebook ufficiale Etnespresso Channel a trattino TG Reporter per rivedere in qualsiasi momento tutti i servizi e tutte le edizioni in archivio del nostro TG che torna domani puntuale con una nuova edizione alle 13.40. Arrivederci.